ecco c'è l'ingresso in campo la versus castelfrentana che gioca con la divisa rosa nero e la testa mariotano con rosso nero questa c'è la scelta del pallone il direttore di gara è della sezione di lanciano qua c'è la panchina ospite qua c'è la panchina nostra mister gabriele il mister in bocca al lupo ecco il nostro nicolò sempre ecco il direttore di gara si sta portando al centro del campo per dare il fischio d'inizio mettetevi le casacche ecco il fischio d'inizio qua è la gara versus castelfrentana con la divisa rosa nero e la testa mariotano con la rossonera qua è la gara del campionato regionale categoria juniors che si gioca oggi si doveva giocare sabato però è stata posticipata ad oggi qua c'è la nostra panchina formata quasi da allievi tutti 2002-2003 buon divertimento a tutti buon divertimento a tutti buon divertimento a tutti se voi votate qua faccio nessuno Una fattrieta, dai, 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 iniziamo, dai. Eh, ora sto chiuso un po' per... Vuole il cancello che sia chiuso? Giovanotto, com'è? Sono da Gio Carlo. Sì, ciao. Allora, domenica a Francavilla. Ah, no, lui non fa i giovanissimi ragazzi. Sì, no. Solo, giù, lì. Quanto c'è l'olimic? Giozzo? 10 giove. Ah, 10 giovanissimi? Sì. E tu scrivi a scopo le tesi d'acqua. Niente. Vai, 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 vai. Gira il bacio, va lì, vai, vai. Garnico, vai, 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 vai. Guardalo, guardalo. Ah, sì. Ah, l'hanno recuperato, bravo, ecco, sta a posto, attenzione! Ah, l'hova, 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 l'hova!